Ucraina in ginocchio al plebiscito, aiutateci, 500 residenti a Napoli si sono raccolti intorno a una bandiera nazionale lunga 20 metri, cartelli per chiedere la no-fly zone e l'embargo sul gas e continuano ad arrivare i profughi, ad Ercolano 54 bambini e offani saranno ospitati dalle famiglie. Sulla cima del taburno la bandiera della pace, si moltiplicano le iniziative di sensibilizzazione anche nel Sannio, questa mattina è stata issata la bandiera della pace su una delle vette più alte della campagna, intanto appello dai vescovi per condannare la guerra e chiedere l'impegno di tutti. Auto contromano sulla A1, tre morti e due feriti, schianto tragico in autostrada nella serata di ieri nel tratto della A1 tra Capua e Santa Maria Capuavetere, un'automobile entrata contromano ha provocato una strage e tre morti, due fratelli di Castellammare e un uomo di Sant'Egidio a Montalbino, due i feriti gravi in ospedale. Disinescata la bomba della seconda guerra mondiale, a Sapri nel Salernitano si sono concluse con successo le operazioni per il disinesco di un ordigno bellico da 500 libre, lanciato da un aereo americano durante il conflitto. Evacuate 600 persone, la bomba è stata fatta brillare dall'esercito. Avellino, pista ciclabile, un anno di degrado, cantiere ancora fermo, a un anno di distanza, la situazione non è cambiata in nulla, il comitato dei cittadini indignati risponde con ironia, regali e torte di compleanno per l'amministrazione festa. La notte di Napoli-Milan, sfida Scudetto al Maradona, grande attesa per il match che può valere una stagione, Spalletti, noi al top, se vinciamo il titolo diventiamo immortali. La Salernitana vuole credere fino alla fine alla salvezza, Benevento, Casetta recupera Elia, Avellino maniero positivo al Covid. E questi erano i nostri titoli, buonasera e buona domenica dal Tg regionale del canale S96, in apertura all'ampia pagina dedicata alla guerra in Ucraina. Oggi in piazza Plebiscito a Napoli tutta la comunità ucraina della campagna si è riunita intorno alla bandiera con i colori giallo celeste della propria patria per pregare per le vittime e chiedere la pace. Intanto continuano ad arrivare profughi anche nella nostra regione. Vediamo. Abbiamo fatto un pregno all'interno per fermare l'aggressione russa. Più di 500 ucraini residenti a Napoli si sono raccolti intorno ad una bandiera nazionale lunga 20 metri davanti alla Basilica di San Francesco di Paola in piazza del Plebiscito, in preghiera per le vittime per quanti stanno combattendo in patria e tanti cartelli contro Putin. Ma la richiesta più forte è rivolta ai USA per l'instaurazione di una no-fly zone sui cieli dell'Ucraina. In piazza anche bandieri arcobaleno pacifiste, ma la posizione maggioritaria è quella della resistenza. Tra loro anche tanti che sono appena arrivati a Napoli e in campagna. Nelle ultime ore si registrano circa 200 nuovi arrivi al consolato. Al Covid Residence dell'Ospedale del Mare la protezione civile ha allestito una tensostruttura in cui sarà possibile somministrare tamponi per chi è in arrivo con i corridoi umanitari. E anche nella città di Ercolano sono arrivati 54 profughi dall'Ucraina. Sono soprattutto bambini tra i 4 e i 16 anni. Molti sono orfani, saranno ospitati da famiglie di Ercolano e Torre del Greco. Il viaggio era troppo difficile, orrore di bombardamenti, gente che scappano da tutto questo, treni erano affolati, gente saltavano per essere accolti dentro per andare via, posto mancavano, donne con bambini piccoli stavano insieme a piedi, non avevano posti dove sedere. Lei ha lasciato in Ucraina sua mamma anziana, adesso è venuta in famiglia in Italia che prima conosceva e loro adesso devono accogliere. E la comunità ucraina e quella salernitana hanno pregato insieme nella chiesa di Sant'Andrea. Questa mattina al momento di fede ha partecipato anche l'arcivescovo Andrea Bellandi, sentiamo. La preghiera è la solidarietà per essere vicine alle popolazioni colpite dalla guerra. La diocesi di Salerno ha scelto di affiancare la comunità ucraina per provare a fronteggiare insieme questo drammatico momento dopo la preghiera organizzata mercoledì nella cattedrale di Salerno. Oggi l'arcivescovo Andrea Bellandi ha affiancato padre Ivan nella chiesa di Sant'Andrea per esprimere un messaggio di fede ai popoli dell'Ucraina. Vi vogliamo bene, vi siamo vicini nella preghiera, ha detto il pastore della chiesa salernitana ai fedeli che stanno vivendo con particolare preoccupazione il dramma della guerra. Le notizie non sono buone perché purtroppo per me, guardate, questo è il mio parere che come Putin, come presidente della Russia, lui non può fare il passo indietro. Secondo me proseguirà la guerra e secondo me va fino alla fine. Intanto, mentre diversi cittadini ucraini hanno fatto rientro in patria per combattere l'invasione russa, tanti altri anche a Salerno stanno contribuendo per rafforzare la macchina della solidarietà. Sicuramente, pure hanno amici miei, qualcuno è tornato in Ucraina per difendere il nostro paese. Però voglio dire una cosa, noi qua facciamo pure il nostro lavoro, perché abbiamo nostre famiglie, però facciamo lavoro che raccogliamo la roba e mandiamo in Ucraina. Purtroppo qua comunque ci vogliono le maniche, devono lavorare, devono preparare tutti questi pacchi per far sostenere le nostre famiglie là. E si moltiplicano le iniziative di solidarietà anche nel Sannio e di sensibilizzazione per chiedere di fermare il conflitto. Questa mattina è stata issata la bandiera della pace su una delle vette più alte del tabù. Vediamo. La bandiera della pace sventola su una delle vette più alte del Sannio. Questa mattina le comunità di Vitulano, Paupisi, Torracuso, Cautano e Solo Paca si sono unite sotto un'unica bandiera per dire no alla guerra con la marcia della pace verso il Monte Pentime, organizzata dall'associazione dormiente Trekking Camposauro. Siamo riusciti a scalare la montagna ed arrivare fin sopra la croce di Santo Mennato e stare una bandiera della pace, hanno spiegato gli organizzatori. Messaggi di pace scritti sulla neve anche durante l'escursione del CAI, il club alpino nei pressi dell'eremo di San Michele a Foglianise. E ieri sera Telese Terme è scesa in piazza con una partecipata fiaccolata che ha coinvolto il centro termale ai paesi vicini, con le amministrazioni, le associazioni e le scuole che hanno risposto compatti all'appello lanciato nei giorni scorsi dal vescovo di Cerreto Sanita, Telese Sant'Agata dei Goti. Don Giuseppe Mazzafaro nel suo intervento ha chiesto a tutti di essere costruttori di pace, impegnandosi attivamente per mettere in campo gli aiuti. La lotta è alla guerra e alla violenza, ha detto. La guerra è un male che è varginato, un incendio è da spegnere subito. Un messaggio rilanciato anche dall'arcivescovo di Benevento, Felicia Crocca. Stiamo cercando di prevenire un fenomeno del quale facciamo fatica a capire i tempi, le entità, ma che sappiamo non sarà facile da fronteggiare. E proseguiranno, ha spiegato ancora Crocca, le riunioni per predisporre gli interventi di solidarietà. Si lavora sia per le raccolte di generi di prima necessità e fondi che per l'accoglienza dei profughi. E ad Avellino la Coldiretti lancia l'iniziativa spesa su spesa proprio per il popolo in guerra. Vediamo. Ha fatto tappa anche ad Avellino in piazza Mazzini l'iniziativa di Coldiretti spesa su spesa per l'Ucraina con la possibilità per tutti i cittadini di fare offerte per acquistare prodotti nei mercatini di campagna mica da inviare ai civili in Ucraina dove iniziano a scarseggiare le scorte alimentari o da donare alle migliaia di profughi che stanno arrivando anche in Irpinia. Frutta, verdura, formaggi, salumi e ogni tipo di genere alimentare, tutto rigorosamente a chilometri zero. Siamo sempre vicini da circa due anni, già dall'inizio della pandemia siamo vicini a chi ha bisogno a chi davvero in questo momento ha bisogno di una mano solidale e Coldiretti, con le aziende agricole proprio associate sta tentando in tutti i modi di portare un aiuto e soprattutto un sostegno far sentire la nostra vicinanza a chi ha bisogno e a chi in questo momento sta soffrendo veramente. I giovani, devo dire, in prima linea nella giornata di ieri, nella giornata di oggi, in tutte quante le piazze italiane nella tentativa e nella volontà soprattutto di poter aiutare il popolo ucraino che in questo momento ai noi, come tutti sappiamo, soffre moltissimo. C'è stata già una buona risposta, un buon riscontro? Sì, anche nonostante le condizioni meteo che temevamo questa mattina venisse poca gente in piazza, invece stiamo vedendo che il popolo avellinese si sta muovendo. La guerra porterà inevitabilmente ripercussioni negative anche sul comparto agricolo. Le conseguenze in parte le vediamo già, se penso all'energia, ma in realtà possono essere ancora molte altre. Io penso anche a quello che potrebbe essere il risultato di mancate semine. L'Italia è un paese che importa, per esempio il grano, e l'Ucraina è il secondo produttore europeo di grano. La cronaca schianto tragico in autostrada. Nella serata di ieri un'automobile entrata contro mano sulla A1 ha provocato una strage, tre morti e due feriti gravi. È successo nel tratto tra Capua e Santa Maria Capuavetere in direzione Napoli. Dalle indagini della polizia stradale è emerso che l'auto con a bordo due uomini, entrambi deceduti, ha imboccato l'autostrada al casello di Santa Maria Capuavetere, risalendo verso nord in senso contrario di marcia, impattando frontalmente un'altra vettura, il cui conducente pure è morto. Feriti anche gli occupanti di una terza auto, i sopravvissuti sono stati portati in ospedale, due in gravi condizioni. Identificate le vittime, si tratta dei due fratelli Vittorio Verone, 77 anni, ex direttore di banca in pensione, Pietro Verone, 73 anni, ex funzionario del comune di Castellammare di Stabbia. Entrambi risiedevano a Castellammare, stavano rientrando da Castel di Sangoro in Abruzzo. La terza vittima, il conducente della Fiat 500 XL, che procedeva a contromano, è Gennaro Casafredda di Sant'Egidio Montalbino, in provincia di Salerno. Il Covid in Campania prosegue la diminuzione del numero dei ricoverati, ma resta alto il tasso di incidenza dei positivi. Vediamo. Sono 3.421 i nuovi positivi al Covid in Campania su 24.916 test esaminati. Il tasso di incidenza sale al 13,73%, in rialzo rispetto al 12,95 di ieri, e comunque ben al di sopra della media nazionale degli ultimi giorni. Il bollettino dell'unità di crisi fa registrare oggi un numero molto basso di vittime, appena tre, di cui due nelle ultime 48 ore e una risalenti ai giorni precedenti. Si conferma il trend positivo nell'occupazione dei posti letto. Quelli in terapia intensiva scendono a 30, meno 4, quelli in degenza a 608, meno 40. Ancora una vittima nei reparti Covid dell'ospedale San Pio di Benevento, dove nelle ultime ore ha perso la vita una donna di 97 anni di pesco sannita. Ma il bollettino dell'ospedale beneventano segnala anche due dimissioni. E ci sono tre ricoveri per pazienti positivi che hanno avuto necessità delle cure ospedaliere. Ora sono 27 i pazienti presso il padiglione Santa Teresa della Croce. Anche in Irpinia numeri in rialzo 281 i positivi di oggi su 1755 tamponi esaminati sia antigenici che molecolari. 57 casi ad Avellino, 30 a Montoro. In calo invece i nuovi contagiati in provincia di Salerno. Rispetto ai 686 delle 24 ore precedenti, oggi se ne contano 590. E a partire dalla giornata di domani sarà attivo anche un nuovo hub vaccinale destinato ai profughi in fuga dall'Ucraina, nello spazio esterno del residence dell'ospedale del mare a Napoli. Sviluppo, si sono chiusi oggi i lavori degli stati generali del Mediterraneo, un'occasione di confronto proficuo tra i paesi che si affacciano sul mar Mediterraneo. Vediamo. Si sono conclusi i lavori degli stati generali del Mediterraneo organizzati da CISE e la Confederazione Italiana Sviluppo Economico a Napoli. La tre giorni ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni di Italia, Iraq, Egitto, Israele, Marocco, Tunisia e Malta. Il meeting si è aperto con la presenza a Palazzo Reale del Ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna. Nell'ultima sessione si è tracciato un bilancio delle proposte avanzate durante i tre giorni di confronto, un dialogo proficuo tra i paesi che si affacciano sul Mediterraneo all'insegna della comune volontà di promuovere lo sviluppo. Sollevare da qui, da questo luogo simbolico, in questo contesto particolare, proprio un grido di dolore rispetto a quello che sta accadendo in Ucraina. Ed ovviamente lo si fa non urlando, ma un grido che promana dal confronto e dal dialogo. Finiamo per dimostrare con i fatti di essere particolarmente capaci di cogliere le occasioni. La ZES è un'occasione storica straordinaria. Anche i fondi che ci sono stati assegnati, i 136 milioni di euro per la Campania, non potevano soggiacere alle logiche del perdere tempo. Per cui siamo partiti prima fra tutti con il mettere a gara e il primo intervento di circa 30 milioni di euro, che garantirà la realizzazione di infrastrutture capaci di attrarre investimento. È evidente che questo è solo il primo passo, ma quell'intervento sarà seguito da ulteriori bandi che promaneranno nei prossimi giorni. Andiamo nel Salernitano. Sono terminate nella tarda mattinata le operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. rinvenuto a Sapri. Le operazioni hanno reso necessarie l'evacuazione di quasi 600 persone. Vediamo. Ha funzionato nei minimi particolari il piano di sicurezza predisposto a Sapri per rimuovere l'ordigno bellico che era stato rinvenuto in località Timpone. La bomba di origine statunitense conteneva una carica esplosiva di 127 chili ed aveva un peso complessivo di 500 libre. Le operazioni coordinate dalla prefettura di Salerno hanno visto impegnati gli specialisti del venturesimo reggimento e Genio Guastatori dell'esercito italiano che sono riusciti a terminare il tutto anche in anticipo rispetto alle otto ore previste. Finita prima del previsto, un programma rispettato al secondo tutta la giornata. Il Genio è riuscito a espolettare la bomba anzitempo, quindi il convoglio è già partito da un quarto d'ora 20 minuti. Adesso abbiamo disposto la rifornitura di tutte le utenze che erano state scollegate tra la giornata di ieri e la giornata di oggi. Si torna verso la normalità. Le misure di sicurezza infatti hanno reso necessaria la sospensione della linea ferroviaria e l'evacuazione delle 580 persone che vivono nel raggio di 468 metri. Dal luogo in cui è stato rinvenuto l'ordigno la fase di disinnesco è stata caratterizzata da due momenti. Prima gli artificieri hanno provveduto a rimuovere sul posto la doppia spoletta della bomba che in un secondo momento è stata fatta brillare in una cava di Casalbono. A Benevento riaprirà a breve la mensa dei poveri alla Caritas, lo ha annunciato il direttore Pasquale Zagarese che accende i riflettori anche sulle tante difficoltà ancora in atto. Vediamo. Sono più di 160 i passi distribuiti quotidianamente dalla Caritas di Benevento. Ancora tante le persone in difficoltà economica che devono rivolgersi alla cittadella della Carità di Via San Pasquale molte le cosiddette nuove povertà e mentre si prova a ripartire allora è rivolto l'impegno dei volontari che si preparano ad una nuova sfida, riaprire le porte della mensa. L'emergenza che comunque continua a esserci quella per quanto riguarda il Covid, al di là della parte estrettamente sanitaria, la crisi economica ha portato quindi nuove povertà ed è un dato enorme anche nella nostra diocesi. Considerate che come mensa vi do un dato sono circa 80 pasti al giorno moltiplicato anche pranzo e cena quindi 160-170 pasti al giorno che noi quindi prepariamo. Di cui l'impegno del direttore che assicura. E mia intenzione è a metà di questo mese aprire le porte anche della mensa perché penso che sia tutto un altro segno a chiesa. Un'occasione dunque non solo per garantire un servizio sospeso a causa dell'emergenza Covid garantito però attraverso la distribuzione dei pasti a chi ne ha bisogno ma anche per ritrovare il senso di comunità che la struttura garantisce. Voglio dire i ristoranti sono aperti, non vedo per quale motivo la nostra mensa che anche accoglienza fraterna non debba essere, chiaramente con tutte le sicurezze sanitarie del caso. Andiamo ad Avellino. Ad un anno di distanza la situazione della pista ciclabile non è cambiata e il comitato dei residenti risponde con ironia, regali e torte di compleanno per l'amministrazione comunale. Vediamo. Tanti auguri pista ciclabile, tanti auguri a te. Compia un anno il degrado e l'abbandono della pista ciclabile di Viale Italia e il comitato indignati anche tu per Avellino prova a prenderla con ironia, festoni, torte di compleanno e regali ma la realtà ci parla di tanta indifferenza da parte dell'amministrazione comunale che non ha ancora avviato il ripristino dello stato dei luoghi. Un anno fa eravamo qui ad indignarci per quello che è successo, siamo ad un anno e continuiamo ad indignarci ma non c'è nessuno che ci dia una risposta credibile perché continuare a dire che c'è stato un affido che si farà il ripristino, non sappiamo ancora chi era il responsabile di questo obbrobbio, non abbiamo capito che cosa è successo con la società che aveva appaltato i lavori, cioè è tutto nebuloso, vogliamo chiarezza, non è che stiamo chiedendo chissà che cosa e chiediamo dignità per gli abitanti di questo condominio. I condomini di Villa Adriana vivono ingabbiati nelle recinzioni con disagi quotidiani che spesso mettono a rischio anche l'incolumità e costringono a camminare lungo il ciglio della strada. Qualche tempo fa notai una persona, un anziano che scivolò, fortunatamente non cadde appoggiandosi ad una macchina per poi passare in una zona che è rischiosa di là perché bisogna attraversare lungo la strada, non c'è più il marciapiede. Io mi affaccio su questo scempio, è da un anno, di conseguenza noto anche che alcuni ne approfittano per lasciare bisognini dei cani, come avete potuto vedere, buttano buste dell'immondizia all'interno, c'è qualcuno che ha preso anche dei marmi, probabilmente per uso personale, per cui diciamo che è veramente una situazione di abbandono. Il tuo respiro più profondo, Gennaro Curato, presenta il video ispirato da un miracolo del sisma. Vediamo. Camminando nel buio ti ritroverò, tutto trema, tutto cade giù. Tutto trema e cade giù. Un riferimento chiaro a quei terribili momenti del 23 novembre 1980, il nuovo singolo di Gennaro Curato, cantautore irpino, dal titolo Il tuo respiro più profondo, tra ispirazione da una storia realmente accaduta che risale al periodo del terremoto dell'Irpinia, dove una bimba appena nata rimane sotto le macerie dell'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi. Fortunatamente viene salvata grazie all'aiuto di Luciano Tontini, all'epoca vigile del fuoco arrivato in Irpinia per soccorrere le popolazioni coinvolte dal sisma. Con questo brano Curato ha voluto lanciare un messaggio di speranza. Nonostante tutte le tragedie, tutti i drammi che una persona può vivere nella vita, c'è sempre una speranza, c'è sempre qualcosa per cui lottare. Un po' tutte le storie, un po' raccontate anche dai miei nonni, insomma, ho messo tutto insieme ed è venuta fuori questa canzone. Dove possiamo trovare allora questo video? La canzone la possiamo trovare su YouTube, basta scrivere il tuo respiro più profondo e così la potete ascoltare. E con questo chiudiamo il nostro telegiornale in regia. Aldo Fenizia, grazie per averci seguiti. Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.